... Nel frattempo, via radio, gli aiutanti di Babbo Natale hanno avvertito di avere allenatrici e Boss corre a loro nascondiglia. Ah, meno di due minuti, non hanno fatto molta strada. Andiamo! Nel frattempo, via radio, gli aiutanti di Babbo Natale hanno avvertito di avere allenatrici e Boss corre a loro nascondiglia. E certo non li abbiamo sorpassati. Quel furgone di prima con tanto di limone. Ehi! Ma qui che ci fermiamo a fare? Noi abbiamo le mattici, perché non ce ne abbiamo? Io voglio essere sicuro che Boss e Rosco non diano l'allarme quando siamo ancora a poca distanza da qui, capito? Ma questi sono progetti disonesti. Dittanto, ai cugini Luke non occorre molto per capire che la pista è giusta, ma che è troppo tale. E l'hanno ancora assegnato. Che cosa facciamo? Si continua a cercare. Ehi, guarda, posso anche capire che il Rosco faccia servizio sulla strada di Seminolcana. Ma come mai Boss è con lui? Sta cercando come noi la stessa cosa. La macchina verde? Così sembra. Usiamo il ponte e torniamo indietro. È lontano due miglia, ma è meglio che guidare attraverso le sabbie mobili. Va bene?